E' giunto alla 91esima edizione il calendario storico dell'arma dei carabinieri che oggi il comando di Pesaro Urbino ha svelato in simultanea alla presentazione nazionale avvenuta a Roma. Il calendario è dedicato al tema I carabinieri e le comunità e si è avvalso del contributo grafico dello studio design Pininfarina e dello scrittore Massimo Gramellini per la creazione dei testi di un calendario prodotto in un milione di copie. Il fil rouge è la nostra banda rossa caratteristica delle nostre divise per la parte grafica, per la parte storica rappresentativa anche degli episodi che vengono raccontati da Gramellini basati su storie vere ma logicamente romanzati un pochettino modificati per renderle anche un pochettino più accattivanti e la vicinanza di carabinieri alla comunità, quindi i carabinieri nella comunità. E la stessa cosa viene ripresa anche nel calendario piccolino dove appunto vengono ripresi le nostre attività di pattuglia normali con i nostri mezzi, i nostri militari in pattuglia nei piccoli borghi premiati da quelli che sono i borghi più belli d'Italia. I carabinieri di Pesaro e Urbino sono ora pronti ad archiviare un 2023 che denota una provincia che si vuole mantenere tranquilla attraverso una costante azione di monitoraggio. Non è scevra da problematiche come possono essere problematiche giovanili ma che sono più o meno analoghe a simili province che noi abbiamo in tutta Italia, quindi come può essere microcriminalità oppure disagio giovanile, problematiche di droga, quelle ci sono sicuramente, però non è una situazione drammatica o particolarmente eccessiva come problematica. Anzi per quel che riguarda in particolare i giovani come problematiche diciamo così che magari l'anno scorso erano, c'erano stati degli episodi ad esempio interventi presso le scuole, istituti scolastici in questo caso nell'ultimo periodo diciamo fatte le debite valutazioni non ci sono grosse problematiche emerse finora. Carabinieri dentro la comunità anche per quel che riguarda la prevenzione vanno in tal senso i risultati prodotti dagli incontri a tutela delle truffe agli anziani. Diciamo gli episodi appunto i tentativi di truffa agli anziani che sono stati fortunatamente scongiurati perché chi ha ricevuto le telefonate, le diverse telefonate perché logicamente vanno a zone, cercano di colpire diverse zone, i truffatori hanno ricevuto delle risposte diciamo preparate perché avevano fatto l'incontro con noi nelle chiese, nelle scuole, nelle parrocchie, quindi questo è il senso della nostra esistenza.